buongiorno volevo dire due cose poi tutto a posto però se ero così volevo dire ci tenevo a dirle se io parlo delle foto io voglio sapere il piacere di vedere il cantante che avete ottimo in classifica mi chiamavo ottimo io voglio dire che è ottimo in classifica perché io inizio 51 centesimi e ho la soddisfazione che ho avuto praticamente l'ottima posizione e ciò non penso che tutta questa discussione della top 5 confonda le idee e influenze la situazione e ciò magari per l'anno prossimo io mi auguro personalmente che secondo me una sopra questa statuzza mi auguro che la situazione si possa magari ma per il piacere perché io inizio questi soldi posso avere questa felicità di vedere che ho due volte che riesco all'ultimo classificato io voglio avere questa soddisfazione e un'altra cosa che volevo dire è che l'anno prossimo che c'è la possibilità una bella canzone in siciliano nella rosa delle partecipanti alla chermesse canora non c'è stessa male io penso di questa maniera visto così ce l'hanno non è un dialetto ma è una lingua o sarebbe bello anche vederlo in torinese perché sarebbe gentilmente un qualcosa di assai stupendo oh via cosa ne pensate voi anche in Toscano ma è mamma e la bucaiola i mortacci perché no pure il romano i mortacci vostri e per il romano